Volete vedere come si realizza un sogno? Venite a Vallelunga 6 e 7 giugno per la Dream World Bridgestone Cup. Piloti disabili sulle loro moto multiadattate si sfideranno e verranno da tutto il mondo. Mi raccomando, Autodromo di Vallelunga 6 e 7 giugno e per informazioni ulteriori il sito è www.diversamentedisabili.it Ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sovrapposti Autore dei sovrapposti Autore dei sovrapposti Autore dei sovrapposti Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sovrapposti Grazie a tutti